e allora ciò che la fa' a lavorare a lavorare a lavorare mi marito è una persona per bene una persona seria mica come te che raccogli la monnezza e la merda tutto il giorno ma ricominci guarda che qua fa a finire male ma non sa mica che mi fai paura ma guarda che non mi fai mica paura te lo sai che te dico? no lo sai che te dico io ma se ti danno fa il culo che hai permesso? sono venuto a dirve che sono tre mattine che mi sembrate una pilata e facciovia e poi si riesce via a dormire poi oltretutto me sono pure beccata un bel vaffa ma no signora Medica non ce l'avevamo con lei è che lei è entrata proprio in un momento dove c'era una piccola Riccola discussione D Recovery dei famigli no no non ce l'avevamo con lei eh il telefono uh io ce lo so chi è questo chiama tutte le mattine ma ma ammoi le faccio ved Ko ma sì che le faccio ved Notice Oggi andiamo a lei, oggi andiamo a lei